Alla Bitti di Bilano, grande successo della regione Sardegna, ancora una volta uno dei migliori stand di tutta la Bitti. Sono molto soddisfatto, ieri c'era il ministro, la ministra in questo caso la Sant'Achè, a visitarci come sempre e ha apprezzato questo nuovo design del nostro stile e del nostro stile Sardegna. Il brand di Sardegna, forte e sempre più richiesto. La destinazione Sardegna, grazie a ciò che noi proponiamo, soprattutto ai 58 rappresentanti che oggi sono qui presenti, a proporre una Sardegna unita, una Sardegna che va anche oltre il mare e non solo male. Ma stiamo puntando a vivere una Sardegna attuale, non ci vediamo, per questo lo stiamo organizzando all'interno della Sardegna. Basti vedere tutti i giornalieri che sono qui all'interno, sono molto apprezzati, rispecchiano un po' i nostri territori. La nostra macchia mente è rara, i nostri costumi, le nostre feste identitari sono sempre più richiesti. Quindi io credo che sia un'edizione che porterà fortuna alla regione Sardegna, a beneficio dell'economia di tutti i santi. In bocca al lupo e forza a vai e sperimenti.